Individuiamo la sequenza numerica per la risoluzione. È un lavoro molto intenso, molto efficace se applicate costantemente queste sequenze numeriche per la risoluzione. Allora così il vostro lavoro diventa ancora più efficace e più intenso. In più applicando queste sequenze numeriche per la risoluzione per esempio potete anche dire costantemente oppure tenere in mente, pronunciare anche mentalmente le parole la risoluzione e la vita eterna. Perché anche dalla vibrazione di queste formulazioni la risoluzione e la vita eterna questo fa dissipare diciamo così le cellule tumorali anche. C'è l'uomo per esempio da una situazione di crisi. Per esempio può anche per esempio mentre lavora può anche ripetere costantemente queste parole la risoluzione e la vita eterna. La risoluzione e la vita eterna e così può anche uscire più leggermente dalla sua situazione ad esempio di crisi. Allora siamo entrati in questa gestione per la macrosalvezza. Voi lavorate con il dispositivo e l'ottica della percezione si trova oltre. Oltre al dispositivo quindi voi lavorate con il dispositivo e l'ottica della realtà si continua oltre. E voi vedete proprio questo sviluppo del mondo che allo sviluppo si continua quindi si stende fino alle orizzonti infiniti. E percepiamo con chiarezza il futuro. Che tipo del futuro al mondo, all'umanità per esempio? E vediamo che è un futuro infinitamente edificante, infinitamente felice. E il nostro pensiero sulla macrosalvezza è completamente preciso. Noi sappiamo con esattezza che l'usulipo ulteriore del mondo è assicurato senza dubbi. E in questo senso.